Allora, ecco, cominciamo bene. Buongiorno, questo è finalmente il video dei favoriti, ma vale, togliti gli occhiali comunque. Questo è finalmente il video dei favoriti del mese di dicembre per quanto riguarda i prodotti da skin care e come dico spesso in queste situazioni quant'altro. Vorrei cominciare però dicendo che cosa ho sulle labbra, un prodotto che dovrebbe proteggere le labbra e allo stesso tempo dovrebbe dar loro anche un pochino di colore. Questo è un lip balm di Veleda, anche chiamata Veleda. Veleda è il nome che le si dà in Svizzera a casa sua e poi nel resto d'Europa e probabilmente nel resto del mondo, a parte gli Stati Uniti in cui qualcuno sicuramente dirà will già, will I do, chissà come verrà pronunciato Veleda. Noi, insomma, in Europa si dice Veleda, si tende a dire Veleda. Questo balsamo labbra è schippabilissimo nel senso che non serve, cioè non protegge più di tanto le labbra, ha una specie di finish cangiante che sembra che qualcuno si sia divertito a mescolare una polvere minerale, un ombretto minerale con una lucida labbra e ha questo colore rosa aranciato, sembra un rossetto di Dr. Auschka che a me non sta bene, un rossetto antico di Dr. Auschka quando Dr. Auschka faceva ancora i rossetti nel tubetto dorato e ce n'era uno in particolare che a me veramente non stava bene e che era proprio sgraziato però su tutti i toni di carnagione, su quasi tutti i toni di carnagione, perché era proprio un colore infelice. Ecco, questo colore è un po' simile, però fondamentalmente si può ancora portare perché ha ancora questo aspetto generale bordeaux, ma è un bordeaux aranciato, insomma un colore strano, comunque volevo solo dirlo così per la cronaca e adesso ci lanciamo nei prodotti che probabilmente non sono i favoriti del mese di dicembre, ma sono quantomeno tutti i prodotti che ho usato di più nel mese di dicembre. A cominciare dal balsamo labbra, nel mese di dicembre ho usato prevalentemente questo come balsamo labbra e ne ho alcuni in scorta, ma sto anche tentando di usare e finire prodotti che ho da tempo e magari già cominciati e che devono essere finiti o addirittura in scorta, ma che ho in scorta da un bel po' e che assolutamente devo usare e finire. Allora questo è uno dei prodotti appena citati, della tipologia di prodotti, questo è uno dei prodotti che appartiene alla tipologia di cosmetici appena citata. Ti rendi conto solo quando incominci a fare un video di quanto sei sveglia oppure del contrario, di quanto non sei affatto sveglia. Ho deciso di fare questo video sia perché era ora di farlo, sia perché questa è una rara pausa dalla pioggia, qui piove da settimane in settimane e la Germania è attraversata da svariati fiumi, uno di questi è il Reno, il Reno ha già sommerso un sacco di cose, ci sono interi lungo Reno che sono stati già mangiati dall'acqua, ma è da settimane così la situazione e non accenna a migliorare, piove in continuazione, ma vi giuro piove in continuazione, piove sempre, in questo momento non piove. Una piccola tregua, ma vedo già Novoloni all'orizzonte, quindi so già che esattamente per l'ora in cui io sarò pronta per uscire, pioverà di rotto come tutti i giorni del resto e sarà buissimo. Allora, però dicevo, questo è stato il balsamo Labbra, in realtà è un lucido da labbra, tra l'altro un lucido da labbra di un'edizione limitata, si chiama numero 30, viola, gloss tube, al verde faceva questi gloss nel tubetto che mi fanno pensare tantissimo, più vado avanti ad usare questo prodotto e lo spremo dal tubetto in questa maniera e più mi fanno pensare, mi fa pensare questo tubetto tantissimo naturalmente al super compianto tubetto di Burt's Bees, di lucido da labbra Burt's Bees. I lucido da labbra nel tubetto di Burt's Bees non esistono più purtroppo, ma non so che cosa stia succedendo, perché nei negozi che vendono prodotti di Burt's Bees in Germania stanno svendendo tutti i prodotti, quindi forse è finita la collaborazione fra Burt's Bees e l'Europa, non saprei che cosa dire. Comunque questa è un lucido da labbra viola, ma che in realtà sulle labbra risulta, dà un'aura leggermente violacea, però in realtà è completamente trasparente, qui lo vedete nel suo colore in forma concentrata, poi però se io lo spando il colore scompare, più o meno scompare. È un lucido da labbra molto avvolgente, rimane sufficientemente sulle labbra, naturalmente essendo un lucido da labbra pigmentato, ossia contenendo una colorazione, non può fare benissimo alle labbra. Io sono dell'idea che tutti i prodotti che contengono pigmento hanno un potere rigenerante, benefico, emolliente, idratante e tutta l'altra collezione, tutto il resto della collezione di aggettivi che si possono usare per descrivere positivamente un prodotto cosmetico. Ecco, il potere di tutte queste qualità che un prodotto cosmetico può avere, se c'è dentro una colorazione, è un potere limitato, perché il pigmento, secondo me a priori, proprio per sua natura, non fa benissimo alla pelle, di qualunque pigmento si tratti. Tuttavia, comunque, questo è un balsamo idratante che mi ha permesso di keep going, che mi ha permesso di andare avanti nel mese di dicembre e per questo gliene sono grata. Gliene sono grata, perché ho spiegato che proprio oggi stiamo continuando a dormire, ma sono giorni che dormiamo, sono giorni di grandissimo letargo, ma mi sembra di ricordare che più o meno sempre all'inizio di gennaio siamo in grandissimo letargo tutti gli anni e poi cominciamo sonnacchiosamente a svegliarci e a riprenderci verso la fine di gennaio, metà marzo e cominciamo a connettere di nuovo. E l'altro prodotto che ho scoperto incredibilmente a metà dicembre è questo balsamo labbra di alterra, che esiste da sempre, ma io non l'ho mai comprato e quindi non l'avevo ancora mai scoperto. Mi è stato dato vuoto per parlarne in uno dei miei video, infatti lo sto facendo, ma che significa vuoto? Significa che comunque qui nel tubetto ce n'era ancora tantissimo, quindi togliendo la parte in superficie che aveva necessariamente toccato le labbra dell'altra persona, ho scavato con una spatolina il resto del balsamo labbra, scopertona, un balsamo labbra buonissimo. Alterra è la marca interna delle drogherie Rossman, ci sono due varietà di questo balsamo labbra, c'è il balsamo labbra bio camille, ossia alla camomilla, e poi c'è il balsamo labbra, se ricordo bene, per pelli sensibili, sensitive, qualcosa, ma potrei star sbagliandomi, non lo so, non mi ricordo con precisione in questo momento. Tra l'altro tutti e due balsami labbra sono stati riconfezionati in nuova veste e quindi quello nuovo non è così, ma ha un tubetto sempre di questo tipo, ma con colori diversi, scritta diversa, tutto diverso, e anche la confezione, il regge balsamo labbra nell'espositore ha dei colori diversi, scritte diverse. Ma sostanzialmente i balsami labbra sono ancora due e sono rimasti con lo stesso inci. Questo balsamo labbra è fantastico, ma soprattutto è fantastico come base per il trucco delle labbra. Questo balsamo labbra è fatto da oli burricere che proprio occludono, sigillano la superficie su cui si posano, per cui niente più esce e niente più entra. Ma questo è molto positivo perché questo strato non fa penetrare disomogeneamente il trucco da labbra che poi ci si mette sopra e lo mantiene bello steso alla perfezione su questa superficie fittizia creata dal balsamo labbra e oltretutto non fa penetrare gli agenti esterni che screpano le labbra, rovinano le labbra. Io questo balsamo labbra l'avevo sempre sperimentato sotto forma di persona che dà il bacetto all'altra persona e sente con fastidio questa sensazione di ingredienti che ti vengono addosso sulle labbra. Ma un conto è asportare balsamo labbra dalle labbra di un'altra persona, un conto è averlo sulle proprie labbra. E così ho scoperto che gli ingredienti occludenti sono quelli che fanno la ricetta di un balsamo labbra felice e di una persona con le labbra felici. Quindi adesso ho 3000 balsami labbra ancora in uso o da cominciare in scorta addirittura quindi io non posso dire la frase che vorrei dire prossimamente mi vedrete usare questo balsamo labbra perché questo prossimamente potrebbe essere fra 200 anni però ecco questo sicuramente sarà un balsamo labbra che un giorno mi farà piacere portare sulle labbra perché è veramente efficacissimo in quanto a protezione delle labbra ma anche ottimo, ripeto, come base per il trucco delle labbra. Costa credo 1,99 euro ma è spesso in sconto perché si vende al Rossmann e il Rossmann fa spesso sconti. Poi con che cosa mi sono lavata nel mese di dicembre che è stato ovviamente il mese all'interno del quale c'è il Natale e quindi grande proliferazione di prodotti a carattere natalizio grande proliferazione anche di cofanetti natalizi ecco ho portato tutte le confezioni dei vari cofanetti che ho usato e che sono ancora in uso ma naturalmente me ne sono dimenticata una ed è la confezione di questo prodotto che viene anche da un cofanetto un cofanetto maschile al guaranà e grapefruit una limited edition ma una limited edition un po' farlocca perché questo cofanetto esisteva identico anche l'anno scorso e l'hanno rimesso in commercio cioè al verde l'ha rimesso in commercio rimette in circolo le cose dell'anno scorso ma comunque questo è stato un regalo di Natale questo cofanetto all'interno c'era il gel doccia che è questo e poi c'è una cremona per il corpo e una cremina per le mani i due altri prodotti dobbiamo ancora cominciare ad usarli però finora abbiamo cominciato ad usare finito di usare e consumato questo questo è un ottimo prodotto che fa una schiuma ricca, avvolgente, compatta molto molto rispettosa che si prende buona cura della pelle che si lascia risciacquare velocemente a sufficienza non troppo velocemente ma neanche troppo lentamente diciamo il giusto una schiuma piacevolissimamente profumata di zenzero profumazione che assolutamente non rimane sul corpo ma questa è la caratteristica di tutti i prodotti ecobio perlomeno quelli tedeschi questo è un prodotto dentro il quale c'è poco e niente ci sono solo gli ingredienti necessari a creare la consistenza di un gel doccia a fare la schiuma poi per il resto ci sono riempitivi però estratto di semi di guaranà e estratto di grapefruit di pompelmo veramente però un prodottore uscito con i prodotti di al verde in cofanetto limitato è sempre un terno all'otto perché ti può capitare il prodotto che ha davvero una profumazione che si sente che è buona che è piacevole e anche il prodotto in sé per sé è piacevole da usare ed è veramente un carino del tuo quotidiano però spesso ti capita il cofanetto che contiene prodotti che sono fatti assolutamente di nulla di tutti i riempitivi e basta e anche come consistenza come soddisfazione proprio nel quotidiano sono delle fetecchie spaventose però fortunatamente con questo cofanetto maschile ci abbiamo azzeccato meno male poi però mi sono lavata anche con il contenuto di un altro cofanetto di quest'altro cofanetto ho la confezione questo era un cofanetto dell'anno scorso sempre di al verde conteneva questi mini 3 gel doccia questi 3 mini gel doccia ed era venduto insieme ad una adorabile scatolina di latta che oggi come oggi contiene le mie palette per il trucco degli occhi e costava 7,95 euro c'era un gel doccia che teoricamente doveva avere il profumo di cannella un gel doccia con il profumo di cacao e un gel doccia con il profumo di vaniglia dentro questi gel doccia non c'era assolutamente niente avevano tutti lo stesso identico inci che sto controllando in questo momento mentre ve ne parlo l'unica cosa particolare era la presenza di acqua floreale di fiordaliso accanto alla normale acqua e in quantità notevolmente minore rispetto alla normale acqua ma questo era tutto e allora vediamo questi 3 tubetti questo era il tubetto con il profumo di cannella che abbiamo usato per primo il profumo di cannella si vagamente presente ma assolutamente pochissimo percepibile poi c'era l'altro cofanetto con il profumo di vaniglia ma che in realtà era si un profumo di vaniglia anche qui percepibile proprio all'1% veramente e poi c'era il doccia gel all'odore di cacao che forse era quello con una profumazione un po' più presente ma questo odore di cacao in realtà era una profumazione di ingredienti cosmetici orientata verso il dolce il dolce quasi severo proprio una certa ben precisa profumazione neutra e generica di prodotti cosmetici che solitamente non contengono profumazione che cosa posso dire di questi gel doccia ogni tubetto è durato all'incirca 3-4 giorni usato in più persone e in ogni tubetto c'erano 75 ml di prodotto cioè mi è piaciuta molto la scatolina di latta però sinceramente prezzo complessivo di questi 3 tubetti e avrebbe dovuto essere 99 centesimi al massimo veramente seriamente non scherziamo e poi però ho usato anche un altro cofanetto che era il cofanetto di quest'anno anche con la scatolina di latta questo cofanetto mi è stato regalato da una conoscente per Natale questo è il cartoncino del cofanetto aveva un prezzo di 5,95 euro di nuovo un prezzo altissimo e all'interno c'erano due prodotti neanche da 75 ml 1 ma addirittura da 50 ml 1 ml l'uno cioè prodotti ancora più piccoli dei tubetti dell'anno scorso vedete questo è il tubetto dell'anno scorso questo è il tubetto di quest'anno e questi due prodotti erano un doccia gel alla mandorla qui con l'uccellino eccetera eccetera e poi una crema per il corpo una lozione per il corpo sempre alla mandorla allora profumazione insolita per quanto riguarda i prodotti natalizi perché qui c'era più che altro una profumazione evanescente e di nuovo a malapena percettibile come di residuo di prodotti freschi da uomo quindi una profumazione non a tema con il resto del cofanetto e poi naturalmente qui dentro c'era pochissimo prodotto quindi questi sono tubetti che sono durati qualche giorno praticamente senza profumazione ripeto con una profumazione a malapena percettibile anche questi prodotti fatti assolutamente di niente qui dentro gli unici ingredienti interessanti che c'erano era il burro di karité che però è dappertutto l'estratto di seme di mandorla dolce e basta e questo è tutto e non c'era niente altro poi tutti riempitivi e niente e ingredienti per dare la consistenza desiderata cioè non lo so per 5 euro e 95 mi sembra assolutamente troppissimo però c'era la scatolina di latta solo che la scatolina di latta è purtroppo opaca quindi si graffierà e si rovinerà molto molto facilmente questa scatolina di latta è stata adottata per contenere giusto così per farvi sapere i miei bronzer poi che cosa ho usato per idratare le mani e per farle essere in una condizione di decenza ho usato questo hand sorbet l'anno scorso l'anno scorso vabbè tutto bene nel video precedente a questo dei favoriti del mese di novembre avevate già visto un tubetto ed era il tubetto che poi avete visto anche nel video dei finiti ed era il tubetto della vera e propria crema per le mani di questo cofanetto il cofanetto qui ci spostiamo e andiamo nelle drogherie Rossman Dirk Rossman il cofanetto era fatto in questa maniera un cofanetto molto economico perché mi sembra di ricordare costasse addirittura 3 euro e 95 però in realtà non mi ricordo con assoluta esattezza potrebbe essere che il prezzo fosse 4 euro e 95 comunque non più di 5 euro e qui dentro c'erano una maschera per le mani che non ho ancora cominciato no c'era un peeling per le mani che non ho ancora cominciato e che è questo poi c'era il sorbetto per le mani che è questo e poi c'era la crema idratante normale la crema idratante non mi è piaciuta più di tanto perché non aveva grandissima capacità idratante però tutto sommato aveva perlomeno la capacità sul momento di rimettere a posto otticamente le mani del peeling non posso dire niente perché non l'ho ancora cominciato oh ma quanto mi piace il sorbetto questa è una linea questo cofanetto è un cofanetto alla curcuma e limone questi sono questi sono i vegetali caratterizzanti di questo cofanetto questo però c'è scritto belebened und erfrischend ossia rivitalizzante e rinfrescante questo sorbetto è fantastico vi faccio vedere un pochino di questo sorbetto perché secondo me merita perché ha veramente la consistenza quasi di un succo di frutta nettare del tipo in nettare e ha veramente una consistenza che ricorda molto il sorbetto vedi questa consistenza quasi grumosina granulosetta e mi concedo i diminutivi apposta per far subbalzare dalla sedia chi è contro i diminutivi mi ricordo alle elementari la maestra delle elementari che per il resto era come si direbbe in Italia nell'Italia nell'Italia soggiogata dalla lingua dalla lingua religiosa nazionale la maestra delle elementari era una santa donna io con il senno di poi direi la maestra delle elementari era una persona molto assennata e una persona che in quasi tutto quello che faceva ci metteva molto buonsenso e quindi era una persona sicuramente da ammirare però aveva il difetto di rimproverare aspramente le alunne che usavano i diminutivi me ne ricordo una in particolare che poi tra l'altro ha avuto una fantastica carriera ed è diventata nonostante questi rimproveri nonostante tanti problemi in famiglia una persona veramente di successo e veramente da ammirare e la maestra rimproverava chi usava i diminutivi io sono qui oggi come oggi io sono proprio campionessa mondiale mondiale di uso dei diminutivi mi piace tantissimo chiunque sia straniero e gioisce della mia compagnia prima o poi incomincio a parlare con i diminutivi quindi io non ho niente in contrario nei confronti dei diminutivi ma so che le donne italiane si esprimono spesso con termini molto aspri e molto molto cattivi nei confronti delle altre donne che usano i diminutivi però sono fatti vostri che cosa c'è dentro questo Hans Sorbet c'è acqua glicerina alcol nei primi tre ingredienti e poi c'è gomma gelan che è una gomma insolita per un prodotto per le mani per lo meno nell'ecobio tedesco poi c'è estratto di limone c'è estratto di radice di zenzero c'è estratto di foglia di camellia e insomma per lo meno ci sono un paio di estratti capisci questo è un prodotto che mi piace molto perché sinceramente si assorbe molto 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 velocemente bisogna stare solo attenti a non applicarne troppo perché altrimenti fa pirulini fa palline piccole piccole che poi vi dovete scrollare dalle mani facendo così ma per il resto è un ottimo prodotto perché si assorbe super super velocemente e lascia le mani veramente otticamente intensamente abbellite e poi a distanza di una mezz'ora di un'ora c'è proprio il rilascio di idratazione che si sente e si vede da un'idratazione vera sarà che io comunque nel mese di dicembre ho smesso di usare un certo disinfettante per le mani che era alcol con alcol quasi e basta e ho usato invece altri disinfettanti in particolare questo disinfettante spray che si chiama olisee e che contiene proprio è un disinfettante oleoso e da spruzzare e questo protegge tantissimo le mani solo purtroppo è molto costoso perché un flaconcino qui con dentro poco e niente ci sono solo 100 ml dura una settimana dura massimo due settimane usato nella maniera più parca possibile ecco un flaconcino in sconto costa per esempio da oldie 1 euro 79 non in sconto costa 2 euro e passa cioè sono prezzi che io non posso affrontare mi spiace e quindi fra poco mi rivedrete con le mani screpolate ma insomma sarà il disinfettante oleoso sarà l'uso di questo sorbetto per le mani ma nel mese di dicembre poi adesso nel mese di gennaio ho delle mani molto 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 a posto e questo mi fa particolarmente piacere e poi ci inoltriamo nel fantastico mondo delle creme Auschka e mi è stato regalato questo calendario dell'avvento da Stefan che ha ricordi di se stesso allegramente impegnato a comprare per me pezzi di edizioni limitate decorative ossia da trucco di Dr. Auschka pervaso dall'erronea convinzione che a me possano piacere in realtà il mio interesse per i prodotti di Dr. Auschka è molto molto limitato e si limita a poche cose lacunose di cui io continuo sporadicamente a parlare da praticamente un decennio e diciamo che se c'è una ditta che veramente io non sopporto una ditta tedesca fra le tante che sono tutte comunque un po' limitate però con questi limiti io ho imparato ad averci a che fare scorrevolmente nel corso degli anni cioè dopo un iniziale non delusione ma dopo un iniziale amarezza per le promesse disattese nei confronti di questi prodotti poi ho incominciato a capire quali sono proprio i limiti i paletti ma anche i criteri della produzione industriale ecobio tedesca ho cominciato anche a capire che cos'è realmente l'ecobio e quindi ho imparato a scendere a patti con tutto quello che è l'ecobio e soprattutto l'ecobio tedesco però proprio Dr. Auschka mi rimane insopportabile difficilmente sopportabile ma vallo a spiegare a una persona con cui ci si vede di rado e che mi conosce molto bene sì ma non è tenuta a conoscere anche i miei gusti cosmetici quindi Stefan mi ha regalato questo calendario dell'avvento avrebbe fatto molto meglio se mi avesse messo i soldi che questo calendariaccio dell'avvento costava in mano ossia 60 euro che non sono pochi e specialmente per me ma invece ha preferito regalarmi questo calendario dell'avvento ed è stato anche entusiastissimo nel portarlo me l'ha portato ha aperto il portabagagli ridendo come un pazzo e da questo portabagagli ha estratto questo scatolone del calendario dell'avvento cioè si vede che proprio ha provato tantissimo piacere a farmi questo regalo quindi io tuttora fino a oggi ho accettato questo regalo il più di buon grado possibile per quanto mi permetta la mia personalità e niente e mi sto usando così più o meno serenamente a testa bassa i prodotti che comunque ho e che sono prodotti che costano tutti tantissimo l'altro giorno stavo guardando al Müller la crema tradizionale alla rosa esistono due creme per il viso la crema tradizionale alla rosa e la crema in versione light la crema in versione light è qui in giro da qualche parte non ve la faccio vedere l'ho usata nel mese di dicembre ed è stata proprio è stato uno dei prodotti più alcolici e disgustosi che io abbia mai usato nella vita mi vedete mi sentite schiarirmi la voce continuamente di tanto in tanto così come mi vedevate schiarirmi la voce di là nell'altro spazio abitativo e lavorativo che ora non esiste più e il motivo di questi schiarimenti di voce è la presenza di spore di muffa per quanto tu possa eliminare la muffa quella poi ritorna perché non puoi eliminare le spore ci vuole una ditta fatta apposta ma ci vogliono soprattutto fior fiore di soldi e ci vuole un intervento che comunque comporta l'abitare altrove per alcune settimane cioè eliminare la muffa da un ambiente abitativo non è una cosa semplice ed è molto più facile cambiare proprio direttamente ambiente abitativo da teretta e la realtà dei fatti e quindi a questo sono dovuti gli schiarimenti di voce che comunque qui sono in misura minore perché qui comunque il disagio muffoso è più che altro fuori e non dentro casa che è già qualcosa comunque dicevo stavo guardando la crema alla rosa di Dr. Auschka tradizionale costa 28 euro 28 euro per un tubetto da 50 ml non c'è senso capisci ma la crema della linea Regenerazione costa 58 euro dentro non c'è niente ma niente che possa giustificare questo prezzo comunque nel mese di dicembre ho usato e non mi sono piaciuti per niente questi balsami per il corpo latti per il corpo in ordine di apparizione ho usato per primo il balsamo per il corpo alla lavanda e al legno di sandalo che è stato forse come prima impressione un prodotto piacevole ma poi con una profumazione appiccicosa che anche il giorno dopo una profumazione di lavanda stantia di lavanda cipriata stantia che a distanza di tempo il giorno dopo per esempio era proprio fra le lenzuola nel colletto del pigiama un odore fastidioso un odore che tu rimpiangi di non aver cambiato il pigiama tra ieri sera stamattina quando ti sei svegliata e pensi madonna questo pigiama lo devo cambiare subitissimo lo devo lavare me ne devo mettere uno pulito sai quei residui di profumi che ti danno talmente tanto fastidio che ti devi togliere tutto e devi buttare tutto in lavatrice ecco questo il balsamo per il corpo al legno di sandalo e alla lavanda poi il balsamo per il corpo alla rosa alcolico zero idratante e con un sentore di rosa veramente da bisnon e infine il latte da corpo alla mela cotogna alcolico zero idratante con una profumazione abbastanza indefinibile e insomma di efficacia nulla e poi ci sono i prodotti per la skin care del viso dunque ho usato la crema lavante del Dr.Auschka con dentro i granulini che però non è uno scrub di questa crema lavante ho parlato 200 milioni di volte questo sarebbe un prodotto che da me è stato sempre molto apprezzato però non vale la pena comprarlo nel frattempo costa 13 euro prima costava quando lo compravo io un secolo fa 11 euro e non vale la pena in realtà comprarlo perché è un prodotto che va male molto molto presto quindi mette a repentaglio la salute del viso della persona che la usa se la persona non è capace di rendersi conto dell'irrancidimento degli ingredienti se la persona non è capace di riporre il tubetto tutte le volte ben asciutto nel suo contenitore al buio e lontano da fonti di calore che siano queste fonti di calore anche e soprattutto l'umidità creata da un bagno caldo cioè se la persona che usa il tubetto crema lavante di Dr. Aushka non è in grado di fare da babysitter e da badante a sto tubetto cioè si fa del male fa del male alla propria pelle e alla propria faccia questa crema lavante dunque ha troppi difetti per essere usata ed acquistata spensieratamente il prezzo è troppo alto il contenuto è un contenuto troppo piccolo cioè c'è troppa poca crema lavante e il fatto stesso che la crema lavante vada usata con lentezza sul viso e vada eseguito tutte le volte un rituale che comunque dura interi minuti non rende questo prodotto un prodotto praticabile nel quotidiano realmente cioè nel quotidiano di una persona molto ricca e con molto tempo a disposizione ma soprattutto con un'attenzione maniacale per i prodotti cosmetici e la loro conservazione asettica allora forse può avere un senso ma per tutte le altre persone normali del creato questa crema boh cioè secondo me non ha tantissimo senso oltre al fatto che è molto grassa e si stratifica sul viso con il trascorrere dei giorni quindi ti costringe a fare ogni due tre giorni uno scrub proprio uno scrub radicale per poter riportare il viso ad una condizione di sopravvivenza autarchica ottimale perché altrimenti non sei tu da sola con il tuo viso ma sei tu con il viso appiccicato alla crema alla crema lavante al residuo della crema lavante di dr. Auschka oppure bisognerebbe lavarsi la faccia prima con la crema lavante di dr. Auschka e poi sciacquare il tutto con un sapone o con un detergente il che vanifica proprio l'uso rende nullo l'uso della crema lavante di dr. Auschka insomma cioè per me sebbene questo sia un prodotto di cui perlomeno riconosco le proprietà non è assolutamente un prodotto che può fare per me specialmente nel 2022 e nel 2021 e poi ho usato dapprima questa crema da giorno rigenerante intensiva la crema che costa tantissimi soldi della linea Regenerazione questa è una crema che si può utilizzare che tutto sommato mi ha mantenuto la faccia leggermente idratata è una crema molto leggera l'idratazione che dà questa crema è veramente leggera però comunque si può usare costasse 4 euro uno potrebbe pensare di comprarsela ma ne costa più di 50 cioè no veramente no e poi come tutti i prodotti di dr. Auschka cioè entro i primi 3-4 posti valanghe di alcol quindi veramente no dopodiché ho usato la crema idratante light in versione light alla rosa ed è impossibile da usare è alcolica da morire mi ha distrutto la faccia la faccia non si è ancora ripresa ancora tutt'oggi sono passate circa 6 settimane la faccia non si è ancora ripresa del tutto poi ho usato la mela la mela certo la crema idratante la mela cotogna e anche lei alcolicissima assolutamente non è adatta alla mia pelle quindi l'ho consumata sul corpo adesso però è gennaio quindi ne sentirete parlare più nel dettaglio nel video dei favoriti di gennaio sto usando il pastone di Fissan il pastone simil Fissan ossia la crema alla rosa del Dr. Auschka originaria cioè quella che è stata messa per prima in commercio ed è proprio un pastone tipo pasta di Fissan non so dirvi se è molto idratante secondo me no però è molto occludente allora se uno deve andare in montagna si può fare proprio delle striscione delle striscione di pasta di Fissan crema alla rosa Dr. Auschka e va bene cioè protegge secondo me però che rilasci idratazione o che ripari la pelle o che la mantenga idratata non lo so io sto usando questa crema ormai da una buona settimana adesso vi sto parlando del gennaio e vi posso dire solo che sotto questa crema la pelle è screpolata da morire la mia faccia è screpolata da morire nel mese di dicembre poi ho usato tutte e due i contorni occhi e adesso stiamo facendo così un contorno occhi che è il contorno occhi light lo sta usando un'altra persona ma sotto la mia supervisione e l'altro contorno della linea regenerazione che è un po' più intensivo lo sto usando io che dire allora questo light dopo tre giorni d'uso i primi tre giorni oh tutto bene dopo tre giorni d'uso un gran bruciore agli occhi e l'impossibilità proprio di spalmare questo contorno occhi sul mio contorno occhi cioè dopo tre giorni è stato completamente rifiutato e rigettato dal mio contorno occhi invece sull'altra persona continua ad andare bene a non fare nessun problema ma ho l'impressione che spalmato la sera la mattina faccia gli occhi il quadruplo gonfi rispetto al normale gonfiore mattutino che negli uomini comunque c'è meno quindi negli uomini proprio usare questo contorno occhi equivale a gonfiarli la mattina proprio no usare questo contorno occhi la sera equivale a svegliarsi con gli occhi gonfi ecco così forse capite meglio laddove gli uomini non soffrono così tanto di occhi gonfi a meno che non abbiano problemi di reni o problemi proprio di salute evidenti e quest'altro contorno per occhi ormai lo sto usando da tre settimane ce n'è ancora tantissimo dentro apprezzo moltissimo questa versione con poco prodotto dentro qui dentro ci sono 2,5 ml notate anche la differenza fra il contorno occhi della linea normale perché dalla dottor auska il contorno occhi della linea normale e il contorno occhi della linea rigenerazione il contorno occhi rigenerazione ha il tubetto leggermente più piccolo anche se dentro ci sono comunque 2,5 ml di prodotto ma il contorno occhi rigenerazione è leggermente più piccolo proprio con evidenza più piccolo e più magrolino il contorno occhi della linea rigenerazione va benone sul mio contorno occhi non vedo assolutamente una differenza se non forse una leggera maggiore distensione delle rughe d'espressione che appaiono leggermente meno evidenti ma più di questo non vedo cioè certo c'è una differenza fra il non mettere nessun contorno occhi che è mio solito fare cioè io non uso nessun contorno occhi nella mia vita normale e metterne uno qualunque sia è ovvio che vedi una piccola differenza però non mi metterei ecco adesso a spendere parole di elogio nei confronti di questo contorno occhi che poi tra l'altro costa anche lui uno sproposito e basta e questi sono i preferiti del mese di dicembre mi sembra di aver parlato di tutto nel mese di gennaio vedrete dei preferiti molto più solidi ah stavo dimenticando una cosa stavo dimenticando quest'olio di Isana che si chiama Hand Unnagel Elixir con olio essenziale di lavanda quest'olio per le mani io lo uso anche mescolato alle creme per il corpo quando le creme per il corpo per esempio quelle farlocche di al verde non hanno una profumazione percettibile e non hanno una consistenza né un'efficacia che si nota sul corpo allora le mescolo a qualche goccina di quest'olio questo olio ha il difetto di essere in un contenitore che perde olio cioè già solo se lo guardi lui perde olio però ha il pregio di essere un olio molto profumato molto piacevole che quando si assorbe lascia effettivamente le mani il corpo molto curati l'inci è un inci possibile ma con niente di particolarmente pregiato dentro questo è un olio tutto sommato a base di olio di soia e di olio di semi di girasole e di olio di cocco trattato cioè non ci si può aspettare troppo però perlomeno c'è l'olio essenziale di lavanda c'è una profumazione buonissima che non è di lavanda è una profumazione fiorata molto molto buona e questa è la linea notturna per questo la bottiglina blu di Isana Isana è la marca interna delle drogherie Rossmann un olio molto piacevole che è costato 99 centesimi 1 euro e 49 l'ho comprato in sconto già a prezzo pieno costa poco con questo ho detto veramente tutto adesso è veramente il momento di separarci e quindi quindi separiamoci ci vedremo sicuramente nel prossimo video ciao a tutti e basta tanti saluti ciao ciao